Allo scoperto di uno sport che anche in Italia ha un forte seguito, il football americano. E in canavese naturalmente non può mancare una società che porta avanti un discorso importante, ovvero quello dei blitz di Ciriè. Io da quando sono nato sento parlare di scuola, esatto, esattamente, sono nato col pallone in mano, mi piace, con la pallone in mano, mi piace dire. Con la struttura in via delle spine abbiamo una palestra che è soltanto nostra, cioè è soltanto discreta nell'uso di giocatori, diciamo, e quindi saleremo tre volte a settimana. Per saperne di più e conoscere tutto ciò che riguarda il football americano nel nostro territorio, l'appuntamento è per martedì 27 febbraio alle ore 21 su ONTV web. A presto.